Le bandiere giallorosse sventolano di nuovo con la promozione del Benevento in Serie A. Una vittoria storica celebrata dal presidente di fede, il DS Collarile, il mister Centonze e i numerosi tifosi presenti al pala tedeschi. I padroni di casa dominano la partita contro il Melilli con un punteggio finale di 6 a 2 assicurandosi l'ottenimento del risultato. Tra gli autori De Gollo, Lo Suazo e Vincenzo Milucci, autore di una magia in apertura. La gioia per il traguardo raggiunto si traduce in messaggi di felicitazioni, tra cui quello del presidente della provincia di Benevento, Nino Lombardi, che ha elogiato l'eccezionale risultato del team. Un successo che non è solamente un momento di grande felicità per i tifosi, ma rappresenta anche la dimostrazione della costanza e della determinazione del club nel perseguire i propri obiettivi. Il raggiungimento della Serie A è infatti il frutto di anni di duro lavoro e impegno, culminati in una prestazione straordinaria sul campo. Un motivo di orgoglio per l'intera città che vede così coronato il proprio sogno.